Siamo con il signor Ciro Guarino, rappresentante della TSM. Signor Guarino, collaborazione con la FlickFlock, una collaborazione importante. Allora, prima di tutto ringrazio il comandante Ciotti che ci ha tenuto presenti qui nella presentazione e poi ci ha dato atto di sponsorizzare questa manifestazione che è molto sentita anche da parte nostra per stare vicino al sociale e stare vicino alle forze armate come grande azienda che stiamo nelle riparazioni dei veicoli militari, quindi siamo molto vicino alle forze armate. Quindi di famiglia? Ci sentiamo parte integrante della famiglia e ringraziamo sempre.